L'attuale limite delle detrazioni per lavori edili è la necessità di poterne fruire in dieci anni. Quello che ha pensato la CNA dal 2014 sta lavorando per proporre una norma che porti alla possibilità di fruire di tutto l'ammontare della detrazione subito, attraverso la trasformazione della detrazione decennale in credo di imposta cedibile a un istituto di credito. Istituto di credito che ha sia i soldi che l'opportunità e la capacità di fare sconto di crediti. Questo garantisce a chi fa la spesa di avere magari non un 50% ma un 48%, non un 65% ma un 55% ma tutto subito, in modo tale che può fare l'investimento e della detrazione ne usufruirà la banca in dieci anni.